No ai falsi allarmi e dagli allarmismi ma sia più controlli ad una maggiore attenzione in tutti i luoghi di aggregazione. È la linea condivisa emersa in prefettura dalla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargata alle associazioni di categoria, commercianti, società sportive e diocesi. Nessun allarme, non ci sono problemi che riguardano la città di Piacenza, però la città di Piacenza viene costantemente vigilata dalle forze dell'ordine e questo è il motivo dell'incontro di oggi. Ci saranno anche controlli per verificare che sia tutto a norma nelle manifestazioni, negli stedi sportivi? Certo, non so se avete avuto modo di vedere, già da sabato sono scattate anche ulteriori attività, come anche il Metal Detector che noi abbiamo utilizzato per la partita del Proprio Cenza e quindi chiediamo ai cittadini un piccolo sacrificio, magari arrivare qualche minuto prima allo stadio, qualche minuto prima a teatro, qualche minuto prima in discoteca, in modo tale da poter fare in modo che l'accesso sia regolare, ma quello che vogliamo garantire ai cittadini è di potersi godere i loro spazi liberi, il loro tempo libero in assoluta serenità. La curia è stata coinvolta perché adesso ci sarà l'apertura della Porta Santa, quindi il Giubileo, anche qui nella provincia ci saranno delle manifestazioni, noi abbiamo chiesto aiuto, a parte l'attività delle forze di polizia e di tutti coloro che sono coinvolti, ma un aiuto inteso come quello di attivarsi, dare una maggiore attenzione nel verificare che certe norme siano rispettate. Piacenza Calcio è una società che è a norma da tutto il punto di vista, lo stadio Guerilli altrettanto, quindi questo è stato un lavoro importante fatto col Comune negli anni precedenti, quindi non c'è nessun tipo di adeguamento o atto da dover mettere in pista. Sicuramente c'è da alzare il livello dell'attenzione, senza però creare nessun tipo di allarmismo che sarebbe secondo me totalmente esagerato. Alcuni presidi sono già la norma nei locali di pubblico spettacolo in quanto si attengono ad un DM particolare, per cui controlli sul vestiario e quant'altro dal punto di vista delle prevenzioni antincendio sono già attuati normalmente. Sicuramente sono emersi elementi interessanti riguardo ai presidi delle porte di sicurezza, alle vie di fuga e a degli spazi che siano disponibili qualora ce ne fosse la necessità. Quindi sicuramente elementi interessanti da questo punto di vista. Il personale è stato informato, è stato responsabilizzato? Il personale è già formato per questo tipo di situazioni. Sicuramente faremo delle sessioni in cui richiameremo particolari attenzioni su alcuni aspetti della sicurezza e soprattutto delle vie di esodo, così come è stato chiesto dalle autorità oggi.